Quello che state vedendo nelle immagini è il progetto che sarà realizzato a Qualiano per l'Istituto Alberghiero. Sindaco Salvatore Onofaro, soddisfatto di questa realizzazione di una scuola alberghiera a Qualiano? Soddisfatto perché è un progetto che risale ai primi anni del 2000, che concordammo con l'allora amministrazione Schiano e dopo 12 anni di duro parto è venuto a compimento. Il progetto fu ideato da noi, l'abbiamo trasferito alla provincia e dopo 12 anni è stata indetta la gara per l'Istituto Alberghiero che darà sicuramente vivacità, slancia all'economia del paese e rappresenterà un atto di giustizia per i nostri studenti costretti a turni obbligati, stressanti per raggiungere scuole su altri territori, anche con le difficoltà congenite dei trasporti. Quello che gli alunni, magari i genitori vorrebbero sapere è stata indetta la gara d'appalto, ma ai tempi di realizzazione c'è quando vedranno l'edificio. Tra pochissimi giorni andrà in pubblicazione sui maggiori quotidiani. Ci dovrebbero essere 60 giorni, siccome si tratta di una gara europea, quindi si tratta di 7 milioni di euro e oltre, quindi ci sarà il tempo dovuto per legge per la pubblicazione del bando. Noi contiamo quantomeno all'inizio dell'anno prossimo di mettere la prima pietra, al massimo all'inizio dell'anno prossimo. Una soddisfazione soprattutto perché questa scuola e l'istituto alberghiero è uno dei pochi sbocchi che i ragazzi trovano nel mondo del lavoro. Assolutamente sì. Averlo a Qualiano rappresenterà un indotto importante, oltre 40 aule, un indotto di mille studenti al giorno, mille e più studenti al giorno. Questo eventualmente ci potrà anche permettere di realizzare, se ce ne fosse necessità, un comprensivo e quindi accostare tutti gli istituti superiori che abbiamo a Qualiano. Uno l'abbiamo inaugurato noi e sarebbe il liceo scientifico all'inizio di questa amministrazione, ma in una struttura comunale. Abbiamo anche una succursale dell'Ipia Marconi che la provincia ci ha ristrutturato ultimamente. Qualiano con questo istituto alberghiero potrà essere un riferimento certo non solo per i cittadini della stessa paese, ma anche per i cittadini che costeggiano il nostro territorio. Ma sicuramente finirà questa tragedia dei collegamenti da troppo tempo insufficienti per i nostri cittadini e che ci consentiranno di avere a Qualiano una struttura di prima necessità, ma anche di grande prestigio.